E' un tema che ci sta a cuore, è un fatto che ci sta a cuore, è un fatto che si è concluso positivamente e quindi anche con un piccolo tifo, non voglio dire aiuto, ma sicuramente con una partecipazione da parte nostra e siamo lieti di confermare la notizia che avete già letto sui giornali e che ha rallegrato tutti. E' tornato a casa dopo 21 mesi di prigionia Cristian Provisionato. Cristian era il nostaggio in Mauritania dal 2015 e non è stata una prigionia semplice, insieme ad Alessandra Bullo, la sua compagna che non ha mai disperato no, non è vero, è sempre stata convinta che lei sarebbe... però devo dire che chi era proprio la sua prima fan era la mamma, mamma è venuta qui più di una volta proprio per tenere l'attenzione viva e destra sulla vicenda perché la paura, credo, di chi è nelle condizioni in cui si trovava lei è di essere dimenticata. Però è anche vero che se l'attenzione non si mantiene... Infatti devo dire grazie anche a tutti voi giornalisti per aver tenuto attenzione. Beh ma noi eravamo tutti preoccupati, intanto sappiamo che non è che le carceri della Mauritania si erano classificate fra gli hotel di Roma, insomma, diciamo, poi veramente erano tanti mesi che lei era là senza un motivo come abbiamo raccontato più di una volta e adesso lo racconteremo ancora. Prima però volevamo ringraziare chi anche si è dato tanto da fare, principalmente chi si è dato tanto da fare per la sua liberazione e che rappresenta appunto le istituzioni che sono state parte del dirigente in questa storia, in particolare ovviamente il Ministro Lugliese e la Farnesina e noi abbiamo in collegamento proprio il Ministro Alfano. Buongiorno. Buongiorno Ministro, come sta? Bene, bene, sono veramente contento di essere con voi in questo momento in cui almeno si festeggia una cosa bella. Ma lei l'ha incontrato già? No, ho incontrato la sua mamma pochi giorni prima della liberazione di Cristian, due settimane prima, infatti il momento più bello per me è stato proprio quello dell'incontro con la mamma che percorrendo la via Francigena quasi fosse un pellegrinaggio laico, è arrivata fino a Roma, peraltro è arrivata nei giorni veri. È vero, è vero, la mamma ha fatto pellegrinanti anche qua più di una volta. Sì, tra l'altro le coincidenze hanno voluto che lei arrivasse a Roma pochi giorni dopo la liberazione di Gabriele del Grande, quasi a invocare una par condicio, cioè nel senso a dire ma è mai possibile che qui in 10-12 giorni si sia risolto, era ovviamente felice per quell'altra liberazione, ma è qui invece dal 2015, mio figlio sta in questa prigione della Mauritania. Io la prima considerazione che ho fatto a sua mamma è stata quella di essere a mia volta padre e quindi di poter non capire fino in fondo il dolore perché bisogna passarci per avere lo stesso dolore, ma poter intuire da papà esattamente cosa si può provare, ma era un'intuizione, ma il suo sguardo e le occhiaie di sua mamma rivelavano molto più delle sue parole, quindi mi sono compenetrato nel suo stato d'animo e la mia gioia più grande è stata poter fare quella telefonata, peraltro mentre mi trovavo con il Presidente della Repubblica in Uruguay pochi giorni fa e potere dire signora è libero, promessa, mantenuta, impegno realizzato, suo figlio è in aereo, sta per decollare, tra poco la chiama e lei è stata veramente felice, ma in quel momento io lo ricorderò come uno dei momenti più belli della mia attività istituzionale. Certo, so che anche Mattarella, il Presidente Mattarella è stato felice, si è complimentato, lei ha espresso la sua soddisfazione perché è un successo della diplomazia, indubbiamente questo. È il frutto di un ottimo lavoro della diplomazia, io ringrazio ovviamente il Presidente della Repubblica per le parole di riconoscenza che ha usato nei nostri confronti, nei confronti della diplomazia ed io a mia volta voglio dire che noi in questi mesi abbiamo avuto molte storie lieto fine, ne ho contate numerose e l'ultima è stata ieri un peschereccio con sette persone a bordo, era stato fermato in acque contestate dalla Libia come acque proprie, ovviamente la tesi contrapposta diceva una cosa diversa ed era stato fermato, le loro famiglie della marineria di Mazzara del Vallo erano preoccupate, erano in ansia, in pochi giorni abbiamo fatto un buon lavoro e così come in questi mesi Gabriele Del Grande, due giornalisti di report, l'attivista che era stato fermato in Cecenia, ma come non dire della piccola Emma che era una bambina che non vedeva più la mamma da anni e anni perché il padre Siriano l'aveva portata in luoghi e in teatri di guerra e di crisi e che è stata restituita alla sua mamma, tutto questo in pochi mesi, quindi noi abbiamo avuto una serie di vicende positive, magari non sempre sarà così, però noi abbiamo il diritto e il dovere di lavorare e sperare perché solo è il lavoro di la speranza, cioè solo lavorare con efficacia, impegnarsi nel silenzio, chi può dare la speranza che le cose vadano bene ed in questo caso, nel caso di Christian è andata veramente molto bene e la felicità nasce anche dal fatto che pochi giorni dopo la visita di sua mamma alla Farnesina, noi abbiamo potuto dare alla sua mamma quella gioia che aspettava dal 2015. Grazie. Christian è felice, Alessandra pure, la mamma anche, siamo tutti contenti e ringraziamo molto il Ministro Alfano per il ruolo attivo che ha avuto in questa e nelle altre vicende, sperando che da questo punto di vista resti disoccupato per la sua mamma. Esatto, è il mio spesso desiderio e intanto comunque lo appuntamento a Christian alla Farnesina. Grazie, 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 grazie di essere stato anche con noi in collegamento e allora Christian, certo, anche dalle altre storie sono importanti, hanno destato all'arma paura, ma certo, a volte c'è una disparità, c'è del grande stato qualche giorno, lei è stato 21 mesi. Devo ringraziare il Ministro perché ha capito che bisognava gestire la cosa a livello politico e non più giudiziario perché i segnali che venivano dalla giustizia mauritana... Il punto di vista giudiziario era estremamente confuso, ricordiamo perché Christian era finito in prigione, lei era andato in Mauritania mandato dalla società per la quale lavorava, che era una società di Milano, una società di Milano, che si occupa di sicurezza, sicurezza, intelligenza e investigazioni, anche sicurezza informatica, cosa del genere, che io sapesse no, però si è ritrovato ad andare in Mauritania, in teoria lei doveva partecipare a un meeting, mi viene chiesto di andare in Mauritania a sostituire un altro italiano che doveva rientrare urgentemente per una semplice demo di prodotti di cyber sicurezza, però vengo rassicurato dal fatto che il mio compito è solo di dare supporto a un tecnico indiano... Poi hai detto ma non è il mio Dio, non ne so niente... Mi sa che mi occupo di, ho detto al mio principale, mi occupo di sicurezza fisica... Ci sono dei filmati, le cose sono loro... Massimo dici due parole in inglese per presentare questa società straniera... Lei era tranquillo... Io mi sono fidato, oltretutto comunque... Ho chiesto al mio referente, queste persone che devi rappresentare sono persone affidabili, iniziali conosci, lui mi ha garantito che erano affidabili e quindi mi sono fidato... A mia volta del mio referente... Ecco, si è capito che non era così, tant'è vero che quando è arrivato... Tanto sono stati subito un poco cortesi, le hanno tolto il passaporto... Sì, il problema è che poi comunque anche il mio referente, prima di partire, mi disse che lì era a prassi... Perché infatti anche su quello io mi sono fidato... Ma il passaporto è quello che arriva, no? Quando si tratta di business... E quindi su quello mi sembrava un po' strano però... Insomma il mio referente... Però poi in questo meeting non c'è stato... Sì, il problema non è che uno dice che il meeting è saltato, non c'era... È andato male, lo aveva previsto... Non era... E lei ha scoperto, purtroppo immaginate con quanta angoscia, che in realtà lei era stato spedito lì come merce di scambio... Praticamente sì... Praticamente sì... Ci appare che questa società dovesse dei soldi ancora... Il governo mauritano aveva pagato in anticipo, avevano fatto un accordo per 13 prodotti... Loro aspettavano l'ultimo prodotto che era anche quello più importante e l'avevano già pagato in anticipo... Loro erano mesi che aspettavano questo prodotto... Il prodotto non è arrivato... Non è mai arrivato perché la società non lo aveva, doveva andarlo a prendere da una terza parte... E lì l'affare può essere saltato... Uno non ha un prodotto, cioè io vado a comprare un'automobile, la pago, non me la danno... Non è che le panni dicono se porti via la cassiera e se la teni in l'ossaggio... Il problema è quello... Invece con lei hanno fatto questo... Sì, perché praticamente ero un ostaggio, cioè mi è stato detto... Però ci sono stati casi del genere, dove gli ostaggi magari stavano o nell'ambasciata... O in un albergo... Lei l'hanno messo proprio in prigione invece... Sì, stavo in una caserma dell'antiterrorismo... Dove c'erano delle celle dove avevano i terroristi... Però nei miei riguardi hanno avuto il favore e stavo con i poliziotti io... Era una cella... Tutto questo, ripeto, senza che ci fosse nei suoi confronti un'accusa specifica... Cioè lei personalmente non era accusato di nulla... Sono stato due settimane in un appartamento... E' difficile fare qualcosa... E' di maschio... Oltre... Poi ciò si è capito che era solo appunto un ricatto... I suoi editatori di lavoro non sono mai fatti vivi in questa vicenda? Assolutamente... Cioè quelli che l'avevano contattata... Assolutamente no... Non l'hanno mai contattata? No, io poi comunque li ho denunciati già quando ero giù... Adesso la magistratura sta indagando e la ringrazio per quello che sta facendo... Perché devo dire che comunque anche grazie a loro che hanno collaborato mandando giù una rogatoria internazionale... Per fargli capire comunque i maritani... La magistratura dirà se sono colpevoli hanno commesso dei reati nei miei confronti... Quanto meno dico si devono prendere le responsabilità... Perché se tu mi mandi in Africa dicendo di andare lì e poi lì non c'è nessun meeting e mi trovo con accuse che vanno da riciclaggio... Truffa, attentato alla sicurezza nazionale... Certo perché poi... Cioè quantomeno le tue responsabilità a livello lavorativo e quant'altro te le devi prendere... Alla fine anche se lei non ha fatto nulla per giustificare... Ma adesso l'hanno accusata... Io ho perso due anni dalla mia vita... Io, la mia famiglia, la mia compagna... Esatto, la povera Alessandra che però non si è rifidanzata... Ha aspettato pazientemente... Per fortuna... Era sicura che pensate... Ma come la mamma... Come mamma anche era sicurissima... Però era preoccupata... Ci aveva dimaglito 30 kg... Sì... I primi cinque mesi avevo perso 30 kg... Perché non si mangiava... Perché... Anzi io mangiavo solo riso... Lo stress... È stato molto forte... Perché ripeto... Trovarsi ad andare... E tutti dicono... Andare a fare un semplice meeting... E poi... Trovarsi in quelle condizioni... Per mesi... Non potendo comunicare con la famiglia... Per dirgli almeno sono vivo... Era uno stress fortissimo... In cinque mesi... Lei l'aveva visto... Fuga di mezzanotte... L'avrò rivisto nella sua mente... Più di una volta... Non ci aveva ripensato... Perché le storie così... Possono capitare... Sono inquietanti... Però... Quello scappò... Lei non è scappato... Ha sempre sperato... Io ho sempre anche letto... Perché lì... Una volta un polizio ha detto... Ma tu non hai mai tentato... Scappare... Ha detto... Se sei innocente... Non scappi... Io non devo scappare... Perché non ho commesso nessun reato... Quindi... Non ci tento neanche scappare... Perché? Senza contare... Forse con lo stesso presso... Non avrebbe sparato... Se ne fosse scappare... Per una promozione... Quando sei innocente... Non hai bisogno di scappare... Insomma... 21 mesi di prigionia... Di vita... Come potete capire... Estremamente difficile... Però... Grazie alla diplomazia... Il ministro degli esteri... Grazie... Alla mamma... Che si è tanto data da fare... Che lì siano tornato... Ma ora ce lo sposi... Perché... No... Si troveremo il tempo... Presto... Ma come tempo... Eh... Non è che ci si sposa... Ma non si attende... No... È la prima cosa che faremo... Adesso... Adesso... E recuperare anche... Quei 21 mesi... Che sono stati... Adesso ci scherziamo... Perché è finita bene... Ma sono stati di grande preoccupazione... Di grande dolore... Per tutti... E di grande sofferenza fisica... Per Cristian... Che male... Cominciate a mangiare... Grazie... Anche troppo... Grazie... Siamo molto contenti... Di avere la facoltà... Grazie... Dopo averne parlato... Tanto... Grazie... Complimenti... Grazie... Alessandro Gullo... E bentornato... A Cristian... Provisione... Grazie...